Questa qua, mio fratello quando è venuto a salutarci ci ha detto voglio lasciarvi un ricordo perché sarà l'unica cosa che vedete ancora di me prima di partire perché io non vengo più a casa di là perché lui sapeva che era andato via proprio con la convinzione di non tornare e allora si è lavata la penna e la messa lì c'erano i buffet di una volta con i vetri e allora piantata lì non l'abbiamo mai tolta fin quando abbiamo poi fatto San Martino da là siamo venuti qua E della penna che hai di là? No, no, quello lì è una signora che mi ha detto c'hai tante cose qua ma ti manca un cappello d'alpino e lo so perché mio fratello non è più venuto a casa per portarmelo e ti do quello di mio marito